Diez palabras al dia Dia dos Comer Mangiare Beber Bere Secondos platos Secondos platos Cordero Agnello Pollo Pollo Salsiccia Salsiccia Ternera Vitello Secondos platos Pescado Secondi piatti di pesce Atun Tonno Bonito del Norte Tonno bianco Bacalao Merluzzo Bacalao Merluzzo Cigalas Scampi Gambas Gamberi Gamberetti Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Mas No 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 No